Bentornati ragazzi! Allora, eravamo qui a completare i percorsi di Fieroveco, quindi andiamo con Play per il quarto e penultimo percorso. Allora, il quarto percorso ha anelli gialli, se non mi ricordo male. Ecco sì, appunto, erano gialli. Andiamo, via! Vengono intanto aggiunti sempre più ostacoli, questi tronchi mi sembra non c'erano prima, e se c'erano allora devo farmi un esame di coscienza e rivedere un attimo le mie capacità mnemoniche. Andiamo su, dai! Allora, 4900, ecco, ora comincia a farsi veramente difficile la cosa. No, questo tronco non c'era. Ora la cosa comincia a farsi veramente difficile, dobbiamo praticamente prenderli quasi tutti, quasi tutti ragazzi, dobbiamo prenderli praticamente quasi tutti. Non possiamo permetterci di saltarne più di cinque o addirittura anche meno. Allora, no, 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 ecco, c'era un problema Fieroveco non curvava lì mentre faceva surf sull'acqua, vai! Ok, l'ultimo percorso poi è davvero difficile perché dobbiamo prenderli quasi praticamente tutti. Dai! Forza! Vai, preso anche questo. 2900, 3000... Ok, l'ultimo percorso ragazzi, comunque, qualche anello se lo manchiamo non è una tragedia, ma fosse stato un gioco Nintendo. Per un gioco Nintendo magari prendere l'ultimo percorso, qui sarebbe stato... dovevi prenderli tutti senza mancarne neanche uno. Perché, madonna, la Nintendo a volte mi dà un fastidio su come esige la perfezione più assoluta per un cazzo di collezionabile a volte, madonna. Vai! No, 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 che fai, oh! Stavi cercando di farmi mancare l'anello, ma non ci provare neanche, eh, bello mio, non ci provare neanche. Dai, non ne abbiamo mancato neanche uno finora, eh. L'abbiamo preso, ho sentito il suono. Vai! Perché fiero becco basta anche che tocchi i pipistrelli, non necessariamente che voli dentro l'anello. Basta anche che sfiori un attimo i pipistrelli e l'anello viene preso, ok? 4800, dai ragazzi! Vai! Figurina, streghe e maghi famosi, presa. Allora, adesso qui. Dai, ok. Ragazzi, se prendo anche questo è un punteggio perfetto. Ragazzi! Punteggio perfetto su questo percorso, è incredibile! Le ho presi tutti senza mancarne neanche uno, grande! Un punteggio perfetto, sono orgoglioso di me. Anche se scommetto che ci riuscirebbe chiunque. Ok, penultima figurina del Quidditch, ragazzi, adesso resta... Eccoci qua, l'ultimo percorso che ha gli anelli rossi ed è il più difficile. Dobbiamo praticamente prenderli quasi tutti. Eh, fiero becco vangato, avete visto? Invece che trottare fluttuava nell'aria con gli zoccoli e le artiglia alzati, ok. 5.600! Occhio, quindi, occhio! Qui dobbiamo prenderli... Praticamente dobbiamo fare un punteggio quasi perfetto. Direi un 90%. Vai, fino a lei abbiamo presi tutti. Sento il suono degli anelli che viene comunque preso. Ecco, è uno già mancato. Ah, lei... No, 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 vola, beccuccio, vola! Vai! Vai! Un altro, ok, siamo a 1.200. Ne abbiamo già lasciato uno, dobbiamo fare già super attenzione adesso a quelli che vengono dopo, eh! Madonna! Vai! No, perché hai fatto così gli accidenti? Vanno bene, vai! Ecco che l'ho preso comunque l'anello. Grande! No, ecco, l'ho lasciato già un altro perché l'ho svolato troppo in alto. Eh, madonna, già sta andando male, eh! No, questo dai, ora prendi questo, ora quest'altro, è numeri da circo proprio, eh! Sto a capare dei numeri da circo? No, già l'hanno dimenticati due e sta andando malissimo perché questo percorso non lo ricordo bene, li devi praticamente prendere tutti per vincere la figurina, proprio tutti! No! Ma perché adesso? Sto lag è improvviso, piccolo! L'avete visto anche voi, no? Non mi ha fatto volare, così siamo a tre anelli mancati! Madonna della madonna! Madonna, guarda, oh! Forza, andiamo, se ci riproviamo... No, no, no! Fermati, ecco, che ora era schizzato in alto, guarda, eh! Dai, ok, adesso questo... Madonna! Ma che zigzag tu mi fa fare? Eh, un altro... Dai! Questo... Questo... Adesso c'è questo qua giù... Ah, giusto, l'anello di fraguardo, comunque... Vale un po' più di punti di quelli normali, quindi vediamo un po'... Una volta non avevo battuto il record per mille punti, cioè per un anello e lì sì che mi incazzai veramente perché quando non ti riesce per uno è davvero da incazzarsi. Allora, andiamo, ok... Dai, su... Calati alla svelta... 5500... 5600... Ma no, ce l'abbiamo fatta, pari pari ragazzi! Incredibile! Beh, credo che comunque la figurina la via, no? O devo superarlo il punteggio? Vediamo un po'... Ah, bene, stavo a ugualiarlo, ok... Ah, abbiamo finito, ok... A best score, vabbè, sul quarto sarebbe inutile, ho già fatto il punteggio perfetto... Allora, quindi usciamo... No... Quit... Hogwarts Ground, yes... Buongiorno ragazzi, stavo per cliccare la X, era per uscire dal gioco, madò... Stavo per uscire dal gioco... Quindi ora, che abbiamo... Tutte le figurine anche del Quidditch, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare all'aula di incantesimi per... Fare quella cosa del libro Mostro e le mostre, sì... C'è il terzo di questi minigiochi con il set di figurine, per cui dobbiamo ora... Usare il mini... Fare il minigioco Libro Monster dei Mostri Se sentite il fono, qualcuno che probabilmente si sta lavando i capelli, ma non so perché si devono lavare i capelli Sempre nel frangente in cui io faccio i video Andiamo su ragazzi, eccoci qua Forza, dai Ok, si torna Hogwarts Ma veramente... Ora chiunque è, gli dico due parole a fine di questo episodio, eh Devo sempre fare casino quando io faccio i video Lo ha di in game, sì ecco, la stanno incazzando tutti a lei, che bell'episodio Allora, incantesimi è al secondo piano, quindi... No, non ti bloccare, dai madonna Sì, un palloso, veramente Allora... Uno... Vabbè, dai Mi sa troppa fatica usare le scale, usiamo anche questo per... ecco Anche per fare un solo piano Allora, dunque Siamo qui, sì, secondo piano Ora dov'è? Aspetta un attimo Da questa parte, eccolo qui, vai Dai, mo' c'è anche il libro di salvataggio Ok, saving game Vediamo un po', ci tocca il terzo livello Siamo a sette minuti Dai, sette minuti Su Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare due livelli Vediamo un po' se riusciamo a fare due livelli Dai, andiamo Su E... forza ragazzi Triplo depulso sto coso Ron! Ma insomma Devi sempre fare il cretino E bloccarti ovunque Ok, andiamo Eh, ce ne sono troppe Capitan ovvio Ermione Granger alla riscossa Ma non mi dire, guarda Siamo al terzo livello di difficoltà Ovvio che ce ne siano troppe Dai, su Madonna Palle Forza, 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 forza Ok Dai, ecco, abbiamo quasi sconfitto Su Ok, queste già le ultime pagine adesso sono queste Le ultime pagine, dai Ok, ecco fatto Terza Fatto E adesso andiamo con il quarto livello No, dai Harry Potter Potter Merda Smettila Ecco, sento già che ha puntato depulso Semi in game Forza Eh, che cavolo Vai Terzo Quarto livello di sto coso mostro Dei mostri Dai, watch out Ancora Capitan ovvio Non sapete far altro che dire cose da Capitan ovvio Come anche facciamo in tutti i contro Ripto sempre Ma no, guarda Pensavo di colpirlo con Con Engorgio Così miglioriamo la situazione Va bene Allora Andiamo Oh, abbiamo già sconfitto di nuovo Ma sto libero a una pippa Ok Quarto livello E Direi a questo punto di fare anche il Ma sì Dai Facciamo anche il quinto livello C'è ancora tempo per questo episodio Sconfiggiamo una volta per tutto il libro mostro dei mostri Ma questa ce la lasciamo un attimo se qualcuno è nei guai Andiamo su E Via Ecco comincio a sputare le pagine Dai, l'ultima ragazzi L'ultimissima Forza No, no, no Dai, andiamo, andiamo, andiamo Dai ancora su E il problema è che le pagine hanno bisogno di due colpi Uno e due Così come negli ultimi nemici Così come agli ultimi nemici normali nel gioco di Harry Potter and L.S.D. per il PC Mi ricordo che Inizialmente i nemici sono più deboli Poi quando si va avanti al gioco negli ultimi capitoli Ad esempio ai folletti della Fornoveglia gli servono due Rick to Sempra Così come ai ragni gli servono sempre due Rick to Sempra Oh, sconfitto! Bene, vai! Eccolo qua Ed è esploso definitivamente Ah, bene Penso che non avremmo dovuto trattarlo così Hermione Hermione, è vero! Ci sono delle controversie ancora oggi su come si pronuncia il nome di Hermione Nessuno lo sa O meglio, la Roling forse l'ha detto io, non me lo ricordo Però noi in italiano diciamo Hermione E qua poi dicono Hermione, lo pronunciano E non saprei bene Comunque ragazzi, vai! Ecco, tante cioccolane 74 figurine Questo vuol dire che adesso Abbiamo tutte le figurine necessarie a prendere la figurina super segreta Quindi cosa si fa adesso? Interrompiamo davanti al negozio di Fred e George Ci rivediamo all'episodio finale, ragazzi E come vi ho detto delle figurine streghe e maghi famosi Il set bonus ne parleremo solo all'episodio finale Che sarà adesso quello dopo di questo No, no, non volevo andare al primo piano Riportami su, riportami su Sette, vai Starfine È un buon peccato averlo fatto in inglese, ragazzi Ma quando la reperibilità è scarsa Allora, andiamo Perfetto Fortuna Major Dai Ok, eccoci qua Allora Eccola qui Guardate, ragazzi La figurina adesso È È accesa E chi è? L'avete di sicuro capito chi era la figurina misteriosa Ragazzi Noi ci rivediamo al prossimo episodio L'ultimo di questo Let's Play Ciao